Siamo sempre andando da Giappone, oggi abbiamo la visita alla fattoria, non vi troverete tante famiglie che portano bambini a divertirsi. Una panoramica della fattoria, come chiamano loro, farma. Questa è la parte dove ci sono gli animali, lassù c'è le capre, le pecore, ed ecco le mucche con i vitellini, sono belle, ma l'odore è uguale a quello in Italia, di concio. Ed ecco la pista dove corrono ora le pecore, prima c'erano le capre, mi ero sbagliato, i maiali invece l'hanno fatti questa mattina. E' una cosa per bambini, ma si divertono più i genitori. Ora i bambini che hanno indovinato gli arrivi vanno a prendere i regali, tra cui mio nipote Tetsu. Qui abbiamo anche l'accoglienza, il mangiare. Può mangiare a sales service, ristorante, street food, prodotti di fattoria. Veramente interessante. C'è anche un laboratorio dove fanno vedere come si fa il formaggio loro. Qui ci sono due poni, aspettano bambini che vanno a comprare le carote per mangiarle. tantissime famiglie, tantissimi bambini. Tutto tenuto in modo perfetto. Gli animali tenuti molto bene. Non c'è una carta per terra. Un saluto al parco della fattoria. Fab Famargi. A presto, al prossimo video.